Non ne sapevo niente, o meglio, il signor Vettoretti non è mai venuto a parlare con me della sua situazione di stallo, così dalla direzione della motorizzazione. Non soddisfatti della risposta, insistiamo e incalziamo. Possibile che in quattro anni nessuno sapesse niente? E perché se il disabile non ne ha parlato direttamente con il funzionario dalla direzione, nessuno si è andato a parlarne personalmente con l'interessato, chiediamo? La risposta è sempre la stessa. Doveva essere Vettoretti a bussare alla mia porta, ci dice il direttore Antonio De Fazio. Anticipa come il dipendente, per aver denunciato la cosa alla stampa, andrà anche incontro ad un provvedimento disciplinare, con tanto di sanzione a carico. Avendo reso ormai la cosa pubblica, ha disatteso le norme previste dal codice di disciplina interno e parimenti, non ha assolto le previste nuove mansioni lavorative assegnategli dal 2010, ci dice. Inutile spiegargli che non vedente non disponeva né dispone delle tecnologie assistive necessarie per poter occupare il tempo lavorando, mezzi che dovrebbe essere lo stesso datore di lavoro a fornire, cioè la motorizzazione civile di Triviso, ovvero il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. La risposta è glaciale. Dovrà anche restituire lo stipendio percepito finora, conclude il dirigente.